Bentornati su MyFootballJersey. Vi voglio mostrare oggi la seconda maglia dell'Uruguay che è stata usata durante i mondiali in Qatar appena conclusi, in edizione FAN. Come tutte le maglie da trasferta internazionali Puma 2022, la maglia da calcio da trasferta Uruguay 2022 World Cup ha una base bianca con un elemento a riquadro al centro che in questo caso è azzurro. Il blu si trova anche sui polsini e sul colore delle 5 deboli strisce blu che corrono lungo il centro della maglia. Il logo Puma è posizionato centralmente con lo stemma FA, la bandiera uruguayana e la parola Uruguay affiancati nella parte superiore del riquadro blu. Il numero di maglia è inserito all'interno della scatola, mentre sotto lo scollo sul retro è presente un piccolo stemma LA CELESTE. Realizzata con l'innovativa tecnologia Drysel, questa maglia di Puma assicura proprietà antisudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. Wow! Secondo me la maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Questo stemma non è il mio preferito, però ha i colori, l'azzurro, il bianco, queste rifiniture sui polsini. Secondo me sono molto belli. Il costo, lo vedete qui sopra, che per una maglia FAN con dei tempi di spedizione così veloci è veramente molto basso e conveniente. Peraltro questo era un nuovo sito sul quale ho fatto un ordine e i tempi di consegna sono stati veramente molto buoni. È arrivata in 22 giorni. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità e le misure. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci rivediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.